Ancora sperpero di denaro pubblico, ancora spese a carico di cittadini. Il Movimento 5 Stelle porta alla luce un nuovo caso, quello dell'esistenza di una piattaforma per il deposito dei rifiuti di proprietà della regione caduto ormai in disuso da anni, che ha obbligato i comuni a pagare cifre superiori per utilizzare società private. È una piattaforma ecologica che avrebbe dovuto trattare i rifiuti differenziati, quindi la raccolta differenziata di tutti i comuni della provincia di Pescara, realizzata con fondi pubblici, circa un milione di euro, gestita da una società pubblica e praticamente mai utilizzata. Solamente sette comuni su 46 hanno conferito i rifiuti per due anni, poi nessuno più. Quindi cosa ha causato questo? Ha comportato che i comuni andassero a conferire i rifiuti presso società private, presso piattaforme gestite da società private. Tutto questo ha comportato una spesa maggiore, novettevolmente maggiore, perché da un calcolo che abbiamo fatto, solo il comune di Pescara, se avesse conferito i rifiuti presso questa dichiaria, avrebbe risparmiato mille euro al giorno. Quindi immaginiamo sulle bollette dei cittadini, mille euro al giorno, perché nella piattaforma pubblica i prezzi sono calmerati, sono prezzi imposti dalla provincia di Pescara. A testimoniare il non utilizzo del sito di Alanno, un documento dell'Arta che riporta la necessità di lavori da praticare sul sito per poter riavviare il suo utilizzo. Abbiamo tutti i documenti, abbiamo l'autorizzazione della Regione, abbiamo un documento dell'Arta, perché la Regione l'unica cosa che ha fatto, ha inviato l'Arta a fare una verifica nel 2010, e l'Arta ci dice che quella piattaforma è inutilizzata, inutilizzata perché necessita di una serie di manutenzioni, manutenzioni che devono essere fatte e mai nessuno ha provveduto a fare, lasciando in abbandono questa piattaforma pubblica che avrebbe fatto risparmiare tanti e tanti soldi ai cittadini della provincia di Pescara.